Il rapporto speciale con la musica antica non superiore, tra cui Vivaldi e anche Don Sebastiano è la differenza tra i geniosi di Vivaldi e Bach, per me non è una grande differenza. E tutti sono collegati al cielo. Bach ha fatto una transcrizione della musica di Vivaldi, perché ha capito che Vivaldi è diverso, rispetto a altri compagni italiani del 18th century. E cosa è diverso? È magico. È solo magico. Ma una notte è musica, se hai un tipo di sound e puoi muovere questo sound con tensione e relazione. Quindi, per me, sound è tutto. È tutto. E ora, sono molto felice con questo instrumento, perché il basso è tutto quello che vuole essere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.